Si è aperta questa trattativa con l'Unione Europea, in buona sostanza l'Unione Europea ci sta dicendo voi continuate a fare i debiti e a prenderci in giro. Il governo italiano ha mandato una lettera di risposta che da quello che si capisce è una lettera piena di poesia, piena di palle, cioè non abbiamo detto niente, abbiamo detto che noi non condividiamo la politica del rigore, della stretta monetaria, vediamo come ci risponderanno. Ovviamente ci presentiamo a questa trattativa nella maniera più sgangherata possibile, un ministro se ne sta negli Stati Uniti a fare turismo trampiano, è tutto contento che Trump sta mettendo tariffe dazzi, barriere che penalizzano anche le imprese italiane ovviamente, però è contento. Dall'Italia arrivano a Bruxelles messaggi di strafottenza, siamo completamente isolati in Europa, però abbiamo Trump che è amico nostro, solo che le nostre decisioni si prendono in Europa. Vediamo come si chiude questa trattativa, io prevedo che si chiuderà con un ennesimo papoccio per una ragione molto semplice, che l'Italia è troppo grande per essere messa in crisi. L'Italia in questo momento ha la forza dei terroristi dell'Isis, quelli che sono, come dire, imbottiti di esplosivo. E che fai? Ti devi stare attento perché se salta lui in aria muoiono anche quelli che sono vicini. Questa è la forza unica che ha oggi l'Italia. Venendo a noi, sono due gli elementi di preoccupazione che dobbiamo avere. Primo, che non ci sia una crisi finanziaria nel nostro Paese, perché questo farebbe saltare il risparmio delle famiglie. Secondo, dobbiamo fare attenzione a decisioni dell'Unione Europea che potrebbero bloccare l'invio di finanziamenti europei all'Italia. Questa sarebbe una tragedia, soprattutto per il Sud. Quindi, al di là delle procedure di infrazione, se l'Europa decide di raffreddare i fondi europei, noi ci facciamo male. Noi, soprattutto, Sud del Paese. Aspettiamo l'esito di questa trattativa e speriamo che la presenza discreta e autorevole di Sergio Mattarella aiuti l'Italia a uscire da questa stretta senza troppi danni. Certamente ci vuole molto di più che il reddito di cittadinanza, che peraltro, insomma, si è già raffreddato, cioè una bolla di sapone che si è già in qualche modo sgonfiata, visto anche il flop dei navigator. Insomma, la gente ci crede di meno a questa misura. ma sinceramente è un'altra grande palla. Credo che sia chiaro a tutti quanti che siamo di fronte ad una misura di pura clientela politica. Ora intendiamoci bene. Le aree di povertà vera vanno tutelate. Questo è un dovere nazionale. I pensionati al minimo vanno tutelati, ma poi bisogna investire tutte le risorse per creare lavoro, non assistenza. L'assistenza prima o poi finisce. Quello che dà dignità a una persona e dà a un giovane la possibilità di farsi una famiglia, di comprarsi una casa, è il lavoro. Da questo punto di vista mancano ancora grandi investimenti, anche se a mio parere la modifica del codice degli appalti presenta degli aspetti positivi. Io non sono per una visione tutta negativa. Ci sono aspetti sicuramente pericolosi. La moltiplicazione delle possibilità di trattativa privata, l'eccesso di gare al massimo ribasso. Massimo ribasso significa che si fanno gli accordi fra le imprese e si fregano le amministrazioni pubbliche. E si fanno lavori di pessima qualità. E si danneggiano le imprese corrette. Però ci sono aspetti positivi dal mio punto di vista. La reintroduzione del progetto integrato, cioè la possibilità che sia l'impresa che vince una gara a fare il progetto esecutivo e a realizzare l'opera e vari altri aspetti. Quindi mi auguro che questa parte della modifica del codice degli appalti possa determinare risultati positivi. È venuto in questi giorni a Napoli il presidente del Consiglio, Conte, è stato a San Giovanni a Teduccio a visitare il polo di ingegneria. Si è dimenticato di dire che quel polo di ingegneria è stato finanziato totalmente dalla regione Campania negli anni precedenti, finanziata da noi, questa aggiunta regionale, tra l'altro i 50 milioni di euro, e che la Apple fa la formazione grazie ai 12 milioni di euro che investe la regione Campania per pagare le borse di studio per gli studenti. Altrimenti questa presenza della Apple che tutti vantano come un segno di dinamicità non ci sarebbe, semplicemente. Solo che nessuno si ricorda di dire che la Apple è a Napoli grazie alla regione Campania. E basta.